Il calcio è nella norma. Visto? Poteva aspettare davvero. Tutto è nella norma. E tu pensavi di no. Pulisci i tappeti, la casa è piena di acido idrofluorico. Non per questo il calcio deve essere basso. In realtà dovrebbe, quell'acido causa un livello più basso... Più basso, non basso. Più della norma. Più basso di ieri, ieri poteva essere alto, non lo puoi sapere. Veramente all'ipercalcemia che sta tornando nella norma con quell'acido? Cosa ci dà ipercalcemia, alterazione del gusto e svenimenti? Credo che lei lo sappia. Chiama la squadra, sarà divertente. Di nuovo, buongiorno. Loro pensano che tu non sia troppo gentile. Troppo gentile? Per cosa? Perché la vita si sia evoluta senza un'entità superiore. Dimostrerò che si sbagliano. Tua moglie è veramente brutta. Vada fuori di qui! Deb... Sta cercando di provare una sua teoria. Credo di averla provata. O sei perfetto o sei malato. E per esperienza malato è più normale. Jeff non è malato, è buono. Sì, come il vostro tostapane è buono per fare i toast. I suoi neuroni gli ordinano di essere buono. Ha la sindrome di Williams. A tuo marito mancano i geni che ci rendono sospettosi. Si sbaglia. Lui è... Sta tranquilla, non c'è una cura. Continuerà a sentire il sapore di meringa, a svenire e a essere un sempliciotto. Sì, ma gli altri sintomi? Non ha altri sintomi. Ma la Williams li causa. Ha tutti i denti, porta gli occhiali. La Williams abbassa il quotiente intellettivo. Non è che lavora nel campo della fisica, sempre che non spunti un buco nero sul loro tappeto. Aspetto da elfo? Sì, è più Legolas che l'omino dei cracker. Ma per me è capace di ingurgitare una vagonata di torte alle noci. È portato per il canto? Adoro il karaoke, vero? Canto da schifo. Modestia. Un altro sintomo. No, è davvero stonato. Facci un gorgheggio. Conosci Sher? No, ma conosco i Brad. Baby, I'm a want you. Baby, I'm a need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm... Che succede? E' un ictus. Come avevo previsto.